Lady Gossip è pronta per darci un contenuto esclusivo, iscrivetevi subito al canale e attivate la campanella. Nel cuore del grande fratello, dove le emozioni sono la valuta più preziosa, i nuovi concorrenti hanno portato un'ondata di cambiamenti sconvolgenti. Al centro di questo vortice di intrighi, sembra che il magnetico Vittorio Menozzi e l'affascinante Greta Rossetti stiano tessendo una trama di connessioni più profonde. Mirko Brunetti naviga ancora in acque incerte, indeciso sui suoi sentimenti, mentre Perla Vatiero, consapevole del triangolo amoroso che si è formato attorno a lei, cerca di mantenersi indifferente. Tuttavia, il vero colpo di scena arriva con l'entrata di Greta nella casa, agitando le acque della già complessa dinamica. Greta e Vittorio, un mix esplosivo che nessuno si aspettava. I due si scambiano sguardi intensi e frecciatine intriganti, creando un'atmosfera carica di tensione e anticipazione. Ma c'è di più. Nel corso di una conversazione sul look di Vittorio, Greta suggerisce un taglio di capelli corto, scatenando un'inaspettata reazione. In un momento di coraggio, Greta dichiara, domani ti taglio i capelli, sei devastante, mi fidanzerei con te, subito. La casa del grande fratello è ormai sospesa in un'atmosfera carica di mistero e passione. Mentre Mirko cerca di decifrare il puzzle dei suoi sentimenti e perla gioca a nascondino con le emozioni, lo sguardo di tutti è puntato su Vittorio e Greta. Sarà amore, flerto o solo una strategia di gioco? La risposta potrebbe essere svelata nei prossimi capitoli di questo avvincente reality. Che lo spettacolo continui!